buongiorno a tutti allora 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 dopo le news naturalmente arrivano anche le call news call news che riguardano allora un'attrice famosissima un'attrice famosissima che ha fatto un film che a natale fanno sempre e che vi dico io non penso di non averlo mai visto proprio perché non so perché ma non ho mai visto questo film qua non l'ho mai visto però a natale è un must cioè arriva natale e ci deve essere questo film e questa attrice ha fatto questo film e racconta che puntini 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 poi parleremo di un ragazzo che si è trovato in difficoltà nel luglio scorso si fanno le si fanno punto non cose chissà che cosa e si fanno delle determinate cose e poi aiuto aiuto aiutatemi ma non è niente di c'è una cosa normale ci mancherebbe però ci è trovato in difficoltà poi parleremo naturalmente di qualcosa di storico perché hanno scoperto una cosa una cosa no che risale all'età del bronzo vi dico solo che ritalia risale all'età del bronzo hanno scoperto punto perché se vi ve lo dico è salta la sorpresa e poi parleremo di un'attrice un'attrice sì possiamo dire sessi anche se non era una sess bomb ecco per intenderci non era una carmen russo o una manuela arcuri però un'attrice degli anni 80 e poi ha fatto anche altri film diciamo che l'abbiamo vista anche in vita smeralda ecco per dirvi dove l'abbiamo vista ultimamente ma bisogna tornare indietro film di gerry calà in vita smeralda c'era anche lei bene detto questo iniziamo allora parliamo di quest'attrice che si è trovata in imbarazzo ecco a fare una poltrona per due jamie lee curtis si è sentito in imbarazzo per la scena di nudo di una poltrona per due se le chiedessero di rifarlo l'attrice ammette che direbbe di no come sempre ringraziamo cinematograf.it per la libidide una poltrona per due ha segnato nel bene e nel male la carriera di jamie lee curtis tra l'altro penso che lo sappiate visto che ci lesionano i testi praticamente tutti i giorni con l'ispettore colombo con alcune delle curiosità sull'ispettore colombo e jamie lee curtis ha esordito proprio con l'ispettore colombo in una particina faceva una cameriera in un episodio dell'ispettore colombo la sua prima diciamo apparizione in un programma televisivo chiamiamolo così in un telefilm ecco poi dopo la sua carriera è tanta roba comunque tutti ricordano una poltrona per due fin del 1983 che ogni natale ci lesiona i testi e non potrebbe essere altrimenti dal momento che è da anni che il film viene riproposto ogni vigilia di natale in televisione la favola del principe il povero di dena e croyd e di eddie murphy vedeva accanto alla coppia di attore attori scusate anche una giovane jamie lee curtis già lanciata da john carperton con halloween la notte delle streghe fin del 1978 ma che potrebbe beneficiare dell'onda di popolarità che il film di john landis contribuì a darle nel film la l'attrice viene ricordata anche per una scena in topless della quale la stessa attrice è tornata a parlare per people avevo 21 anni e la parte richiedeva che ofeglia il personaggio che appunto jamie lee curtis interpreta in una poltona per due si levasse il vestito mi è piaciuto farlo punto di domanda no mi sono sentito in imbarazzo mentre lo facevo sì sembrano mi sembravo stare bene certo sapevo quello che stavo facendo sì mi è piaciuto no l'ho fatto perché si trattava del mio lavoro sì non lo rifarei oggi anzi è proprio l'ultima cosa al mondo che farei adesso sono stata sposata per 37 anni mentre allora al tempo delle riprese del film non lo ero sono anche madre assolutamente no non lo rifarei ricordiamo che jamie lee curtis è di recente apparsa in halloween kills sequel di halloween del 2018 il quale aiuto a sua volta era il seguito diretto del film originale di john carpenten nel film il dodicesimo della saga l'attrice riprende il proprio ruolo storico la vedremo ancora una volta nei panni di laurie strode in halloween eggs ultimo capitolo della nuova trilogia dedicata a michael myers e diretta da david gordon green sarà anche l'ultima volta in cui vedremo jamie lee curtis prendere parte alla saga ma è una notizia di cui vi avevo ampiamente già parlato in tanti video precedenti perché halloween è stato comunque spesso citato da cinematore.it il gigione naturalmente vi teneva sempre informati siamo a luglio ragazzoli fine luglio per essere precisi fine luglio del 2022 perché sono le call news quindi è estate è bello fare le passeggiate in montagna eccetera eccetera no vediamo che cosa è successo a fine luglio a questo giovincello era arrivato in cima ma non aveva più la forza per scendere così che per il giovane escursionista residente in brianza sono arrivati i soccorsi protagonista della vicenda riportata dai colleghi di lecco today l'ecco è una città ragazzi perché se no l'ecco oggi non è bello l'ecco è la città che abbiamo di fronte noi è a circa più o meno circa quasi 50 chilometri da dove abito io più o meno chilometro più col chilometro meno qualcuno potrebbe dirmi no gigi non sono 50 sono 55 sono 45 eccetera eccetera dovrebbero essere 50 almeno quando si imbocca da colico l'autostrada mettono l'ecco 40 quindi calcolando che da qua ad arrivare a colico ci vogliono circa 10 ci sono circa 10 chilometri dovrebbero essere 50 chilometri quindi è un giornale l'ecco today un ragazzo di 23 anni residente in brianza quindi il protagonista della vicenda riportata dai colleghi di lecco today è un ragazzo di 23 anni residente in brianza nel tardo pomeriggio del 27 luglio era un mercoledì i tecnici del soccorso alpino si sono subito messi al lavoro per riportarlo a valle verso sera nella zona del monte due mani i tecnici della stazione di balsassina balbarone della 29 diciannovesima delegazione lariana sono stati attivati per salvare quel giovane escursionista che era arrivato in cima alla montagna balsassinese ma in fase di discesa si è trovato in difficoltà era troppo stanco e non era più in grado di affrontare il percorso per raggiungere il centro abitato di cremeno un tecnico della stazione si trovava già nei paraggi lo ha individuato e raggiunto in poco tempo il ragazzo si trovava a 200 metri dalla cima del due mani ha ricevuto l'assistenza necessaria ha cominciato a stare meglio e allora sono ripartiti per scendere intanto lungo la mulattiera stava salendo un'altra squadra della balsassina con tre tecnici sul mezzo fuoristrada il ragazzo è stato accompagnato a valle l'intervento si è concluso verso le venti quando si va in montagna è sempre opportuno programmare con attenzione il percorso e tutto il necessario per compierlo al meglio si parte dalla conoscenza dell'itinerario delle proprie capacità e competenze poi si considera il tipo di terreno le previsioni meteo importante anche quello che si indossa dalle scarpe a tutto quello che serve per coprirsi anche in estate o per cambiarsi se necessario controllate anche di avere acqua a sufficienza e cibo per sostenere le energie sul sito sicuri sicuri in montagna tutto attaccato punto it campagna permanente del cns as corpo nazionale soccorso alpino e speleologico sulla sicurezza in montagna ci sono tante informazioni utili consigli di esperti e anche degli opuscoli gratuiti da scaricare ha ricordato il corpo appunto del salvataggio alpino chiamiamolo così salvataggio alpino anche se non è esatto ma è la stazione balsassi da val barone della diciannovesima delegazione lariana perché ragazzi miei la montagna uno pensa massiva da fare l'escursione eccetera poi non sai mai cosa può succedere un altro consiglio che dando molti non andarci da soli perché in caso di necessità c'è sempre qualcuno che ti può dare una mano detto questo tutto è bene quel che finisce bene sono curioso di vedere quanto gli hanno chiesto perché comunque un intervento eccetera eccetera un po come quando chiami l'ambulanza no se in cosice giallo codice rosso non ti chiedono nulla se è un codice verde e tu chiami l'ambulanza per farti trasportare di qua di là devi pagare il ticket come si suol dire mi sembra siano 25 euro vabbè lasciamo perdere andiamo a questo fatto questa scoperta ragazzi miei per gli esperti potrebbero riservire all'età del bronzo un villaggio di palafitte quanto ce ne facevano studiare le palafitte due maroni all'elementare terza elementare no partivi dall'età preistorica arrivati forse alla caduta di roma ecco esagerando poi nel seconda ti facciamo studiare dalla caduta di roma al a colombo che scopre l'america mille c 1492 più o meno e poi il terza media dal 1492 fino a dove riuscivamo ad arrivare in base solitamente arrivavamo al massimo alla seconda guerra mondiale poi adesso non lo so se sono i ragazzi che studiano storia eccetera sono arrivati anche alla guerra del golf eccetera eccetera non lo so perché non essendo babbo non lo posso sapere comunque un villaggio di palafitte è emerso nella zona di calvatone in provincia di cremona in un'ansa in un'ansa del fiume olio ad inviare la segnalazione alla soprintendenza è stata l'associazione clausius sul luogo gli esperti hanno rinvenuto una serie di palificazioni e ceramiche l'indagine archeologica realizzata ha consentito di scoprire posizionare una struttura composta da oltre 100 pali in legno che compongono una piattaforma di forma quadrata al centro del fiume collegata alla riva da due puntili ha dichiarato la soprintendenza di cremona lodi e mantova nella stessa area sono state scoperte anche una barca realizzata a fasciame ancora per la gran parte interrata un villaggio di palafitte e una barca ormeggiata emergono dal fiume olio la presenza di ceramiche proprio nei pressi del corso del fiume non permette di fornire un'adattazione certa della struttura già scoperta nel 2003 è identificata come una palafitta risalente ad un periodo che va dall'età del bronzo antico finale e il periodo centrale del bronzo medio ora gli esperti contano di saperne di più grazie alle campionature attraverso le analisi dendro cronologiche e con l'uso del carbonio 14 vedremo se confermeranno o meno la datazione tenete conto il carbonio 14 più una roba le cose che scopri sono antiche e più la datazione diventa difficile perché logicamente una cosa di 65 milioni di anni fa col carbonio 14 per quanto lo usi puoi avere degli errori anche di milioni di anni viceversa se una datazione di 2000 3000 anni fa c'è una differenza magari di 50 anni ecco per intenderci penso e non lo so ve lo dico ve lo butto lì così non sono piero angela e ci mancherà non mi permetterei mai però così a memoria mi dicono che col carbonio 14 ci sono naturalmente delle piccole differenze ma che più la datazione minore cioè il tempo passato dalla dall'oggetto di cui parliamo a oggi meno il tempo e più è precisa la datazione più è il tempo più diventa magari difficile veniamo alla storia di questa attrice io scherzosamente no ormai vista l'età faccio sempre le mie battute no quando faccio le battute sotto i 18 sono protette dalla legge sopra i 55 dalla natura oggi scherzosamente stavamo facendo il pocherino coi ragazzi uno me l'ha ricordata e gli ho detto ma si dai facciamo 55 facciamo i bravi comunque parleremo di questa attrice che ha superato pochino e non troppo i 55 anni una vita non basta e forse nemmeno due per essere l'ori del santo caduta e nata un infinità di volte showgirl attrice 63 anni va per il 64 perché l'intervista il racconto è di fine luglio 2022 lo ricordo reduce dall'ultima isola dei famosi queste le sue parole sono nata nella stalla papà contadino voleva diventare allevatore e aveva sei mucche poi mamma resta vedova e povera con due figlie andava dei campi e a cercare lavoro non l'ho mai vista seduta a far nulla ha raccontato al corriere della sera provando a rianvolgere il nastro in mezzo non si seguirsi di prime volte dolori nuovi inizi da renzo arbole e lei racconta mi vide al ristorante luciano de crescenzio mi seguì in bagno mi disse vuoi venire in tv per fare una che porta al caffè alla relazione con cascio cascioggi stemmo insieme sei mesi mi aveva messo sotto il suo ombrello ma dovevo stare attenta a non uscirne invece mi feci fotografare dal marinaio sul nabila e uscì su tutti i giornali del mondo pensai quando mi capiterà un'occasione così e poi gianni agnelli racconta sempre la lori del santo l'ho frequentato per due anni voleva che fossi sempre lì a parigi a torino in barca credo che tanti uomini mi hanno voluta perché sono di compagnia rispettosa non pretendo nulla non sono mai stato con qualcuno per un ritorno economico per questo motivo lori racconta di non essersi mai sposata perché quando finisce si parla sempre di denaro ha spiegato al quotidiano e a lei il denaro non è mai interessato il buio poi nel 1991 quando conor klepton il bambino che aveva avuto da eric klepton famoso chitarrista penso che lo sappiate perse la vita in un tragico incidente a soli cinque anni cadendo dal cinquantatresimo piano del grattecero galleria di new york e lei ricorda così il destino è fatto di secondi due secondi prima non sarebbe successo chissà quante volte per due secondi le cose invece non sono accadute e magari sono rimasta viva io ha spiegato la seconda tragedia due anni fa il suicidio del figlio lorem a 19 anni dopo la morte la diagnosi di anedonia ossia l'incapacità di provare piacere per le cose della vita la conseguenza è uno sconfortante senso di vuoto e questo è lei ha ricordato dicendo come potevo immaginare una malattia mentale punto di domanda a scuola gli insegnanti mi dicevano sta sempre da solo ma è bravo il presente è con marco cucolo 33 anni più giovane a un certo punto ho deciso che ero io quella che voleva essere seguita marco non sa che fare di sé lo so ma va bene così bene ragazzoli niente io mi auguro che sappiate chi è lori del santo comunque basta che andate cliccate lori scritto con la y lori l o r y del santo e potete vedere tutta la sua filmografia eccetera poi ripeto se volete vederla abbastanza recentemente eccetera eccetera c'è il film vita smeralda di jerry cala che adesso vi dico anche di che anno è in cui c'è la sua battuta molto particolare ma non ve la dico dovete vedere il film il film è del 2006 è da tattino ma ve l'ho detto io oramai non mi rendo conto del tempo che faccia quando leggo di certi film 2005 2006 2007 a me sembra che li abbiano fatti 5 6 anni fa al massimo invece ne sono passati ben ormai 16 dai diciamo 16 visto che siamo all'inizio del 2023 quello è un film estivo diciamo così del 2006 in cui appunto c'è anche la la simpatica lori del santo che fa una particina diciamo così detto questo ragazzoni spero di avervi incuriosito con le palafite con un ragazzo che si perde con la lori del santo e soprattutto col primo col primo articolino che riguardava la gemili curtis che magari qualcuno non se lo ricorda nulla non non penso però c'era questa cosa qua che ogni due per tre c'è la pubblicità di colombo ci sono tre curiosità e appare punto la gemili curtis che è lì a fare la cameriera e appare in questo cameo che ha fatto per farvi capire colombo da quanti anni c'è eppure lo continuano a fare sempre come anche puro vabbè che io sono un top crime dipendente quindi tra csi e sai love and order riss eccetera eccetera sono sempre lì a a vedermeli a rivedermeli perché mi acchiappano poi soprattutto le cose quando poi vanno a fare le cose lì alla in tribunale eccetera con gli avvocati quello che combinano non so se poi concludo l'avete visto quell'avvocato che dice alla fine è il diritto penale che stè ecco ogni tanto mi verrebbe voglia di fargli delle domandine un attimino malefiche ma evito perché magari potrebbe dargli fastidio eccetera ma era proprio sul professionale non offensivo ci mancherebbe però siccome ci sono episodi di love and order in cui accadono determinate cose e io volevo chiedergli proprio professionalmente visto che lui dice che preferisce difendere tra virgolette quelli che combinano reati non quelli che li subiscono proprio per dargli il diritto alla difesa perché lui continua a dire tutti hanno diritto alla difesa sì ho capito il problema è che io fortunatamente ho fatto giurisprudenza non l'ho finita non l'ho iniziata ma mio padre è venuto a mancare dopo pochi mesi che e quindi c'era da lavorare in negozio c'era mia mamma eccetera e quindi ho mollato per causa di forza maggiore ma meno male anche perché probabilmente avrei scelto criminologia quindi non sarei non sarei stato sicuramente avvocato proprio perché ha il pensiero di difendere qualcuno magari farlo assolvere sapendo che è colpevole io non ci dormire di notte quindi è meglio che non l'ho fatto perché devi essere col pelo sullo stomaco lo vedi quando negli episodi di love and order eccetera e si e sai come io non ce la faccio ragazzi cioè se devo difendere una persona che ha subito un torto volentieri ma se devo fare in modo che magari uno che ha fatto qualsiasi tipo di reato e farlo assolvere no mi dispiace a meno che non ci sono delle motivazioni valide per cui magari gli si può dare l'altra chance a una stupidata ma quando ci sono reati di un certo livello è giusto che uno paghi il giusto né più né meno io sono così io capisco quindi non potrei fare l'avvocato perché l'avvocato bravo è quello che fa assolvere la moglie che ha ucciso il marito coltrita carne come facevano in un film di jerry cala avvocato colombo e non vi dico qual è quel film detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao